Matteo Signani, un'altra grande prova sul ring, la cintura dei campionati europei pesi medi EBU è ancora nelle tue mani, hai difeso alla grande questo titolo contro Ruben Diaz a Roma. Sì, è stato un match duro, l'avversario era tosto, ma noi l'avevamo studiato alla perfezione e abbiamo fatto il match che dovevamo fare per vincere. Senza rischiare niente, non è stato brillante, ma abbiamo vinto, quindi quello che conta è quello. Raccontiamo appunto queste 12 riprese e come sono andate, qualche colpo subito, qualche colpo dato, però insomma nulla di così eclatante. Sì, diciamo che c'è stato un inizio di studio, faceva molto male ed era scorretto con la testa, lo spagnolo veniva sempre avanti così, mi dava due o tre colpi e poi veniva avanti con la testa e mi legava. E io lì non sono stato calmo, non mi sono fatto innervosire, l'ho colpito col sinistro e a volte l'ho toccato con dei ganci buoni, anche sotto, sono sempre stato sopra i punti, infatti ho vinto decisioni unanime di tutti e tre i giudici e diciamo siamo contenti, il mio staff e io abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Adesso quale può essere il sogno nel cassetto, visto che ormai ha 42 anni, cosa si può sognare ancora? Adesso la ciliegina sulla torta sarebbe combattere per un campionato del mondo, tutti sanno qual è il mio sogno, lo sa gli organizzatori, lo so io, non dipende da me, adesso uno vince, però c'è la possibilità, non lo so, io comunque sia mi farò trovare pronto.